Era già nell'aria ma adesso arriva anche l'ufficialità. Sandra Bianchi è stata nominata amministratore unico di Arezzo Fiere. Questo è stato deciso dall'Assemblea dei Soci che si è riunita questo pomeriggio dopo le dimissioni di Andrea Boldi. La contabile toscana dovrà traghettare l'ente fieristico sino al prossimo 30 aprile. Successivamente dovrebbe rassegnare le dimissioni in vista della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Al suo fianco due figure tecniche, il commercialista Francesco Bonelli di Poggi Bonzi che si dovrà occupare del bilancio societario di Arezzo Fiere e Luca Benvenuti, contabile a retino e consigliere di 1R, a cui è stato delegato il compito di riavviare la trattativa Coglieg per l'acquisto delle due fiere Orafe e Aretine, Oro Arezzo e Gold Italy. Sul nome di Sandra Bianchi si è estenuta la provincia, la regione ha fatto altrettanto sul vincolo di mandato dei due consulenti tecnici, una decisione caldeggiata dagli altri soci.